Salve, bentrovati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Capriamo parlando del teatro comunale di Siracusa. Non ci sarà alcuna commissione d'inchiesta, lo ha deciso il Consiglio Comunale che ha rigettato una richiesta specifica avanzata da tre consiglieri dell'opposizione. Il Consiglio Comunale ha rigettato l'atto di indirizzo a firma dei consiglieri Rodante, Milazzo e Sorbello che ha per oggetto il teatro comunale. Nell'atto la richiesta di relazionare sullo stato dei lavori eseguiti, su quelli da eseguire, sui costi necessari per il completamento dell'opera, sui tempi di collaudo e apertura al pubblico e ancora l'avvio di un procedimento risarcitorio nei confronti della ditta che ha eseguito l'impianto antincendio per vizi riscontrati, la predisposizione di un piano organizzativo per la gestione del teatro, la direzione artistica, la programmazione degli eventi e la sua intitolazione a salvo randone. A rispondere il Vice Sindaco Francesco Italia che ha ricordato quanto fatto dall'insediamento della nuova giunta, dal riscontro delle difformità nell'impianto antincendio realizzato, alla denuncia alla magistratura e alla successiva perizia tecnica d'ufficio. Nel merito dei lavori è toccato l'ingegnere Capio Borgione a fare il punto alla situazione sull'impianto che è definito inutile, inefficiente e incompleto, può essere reso a norma con un intervento minimale da progetto già pronto da presentare ai vigili del fuoco. Quantificato in circa 30.000 euro l'intervento potrebbe rendere subito agibile il teatro. Nel successivo dibattito il consigliere Milazzo è tornato a chiedere l'individuazione dei responsabili non solo della cattiva esecuzione dei lavori ma anche del mancato controllo. Ha ribadito l'appello all'intitolazione a salvo randone e ha chiesto di conoscere i progetti di gestione del teatro, temi ripresi anche dal consigliere Sorbello che ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta per fare chiarezza su tutta la vicenda e dal consigliere Vinci che ha invocato maggiore trasparenza. Altri interventi sull'argomento, quelli del consigliere Pappalardo, del consigliere Castelluccio, contraria a una commissione d'inchiesta con le indagini della magistratura in corso ma favorevole a una maggiore coinvolgimento del Consiglio nelle scelte gestionali che andranno a farsi. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo primo firmatario del consigliere Cosimo Burti che impegna l'amministrazione a promuovere la social housing per facilitare le politiche abitative attraverso una serie di iniziative finalizzate allo scopo dall'assistenza alle famiglie bisognose e convenzioni con i proprietari di immobili disponibili alla stipula di contratti di locazione a canone mensile calmirato con la previsione, in questo caso, dell'esenzione del pagamento dei tributi comunali. L'assessore Valeria Troia ha illustrato invece il regolamento per la realizzazione dei murales ed arte urbana su spazi pubblici. L'atto, ha detto, l'assessore nasce con l'obiettivo di promuovere all'interno del contesto cittadino sono forme di arte urbana concepite come riqualificazione e rigenerazione di spazi pubblici e privati abbandonati o in evidente stato di degrado. Chiaro esempio di cittadinanza partecipata che ci permetterà di accedere a bandi europei specifici. La bozza condivisa con le scuole, la situazione di categoria, gli albi professionali e quelle organizzazioni che hanno dato un concreto contributo per la sua stesura mette insieme elementi della normativa nazionale e le esperienze delle città italiane e europee che da anni promuovono la valorizzazione della street art salvaguardandone il valore di espressione artistica in contraposizione al vandalismo grafico. Il regolamento individua le aree dove i murales potranno essere realizzati, l'iter procedurale per presentare la domanda, l'idea progettuale che un'apposita commissione valuterà i tempi di realizzazione, le modalità di esecuzione e realizzazione delle opere. Al momento della votazione alcuni emendamenti è venuto a mancare il numero legale per cui l'argomento sarà trattato in una prossima seduta consigliare. Questa mattina si sono svolti i funerali della ragazza scomparsa, l'infermiera scomparsa ha perso la vita lunedì scorso insieme con la figlioletta ancora in grembo per cause ancora al baglio della magistratura siracusana. Sono state le note dell'Ave Maria di Schubert che hanno fatto colonna sonora a quest'ultimo tratto di strada. da tantissime, tantissime le persone commosse che hanno partecipato al momento davvero doloroso per la famiglia e per tutti gli amici presenti alla chiesa, alla Madonna della Roccia al Plemmilio. La Polstrada ha avviato una nuova campagna sulla sicurezza stradale, ieri i protagonisti gli studenti, oggi invece i medici che fanno da filtro tra i giovani e gli studenti e poi la dura realtà degli incidenti stradali per droga o alcol. Prosegue il progetto Icaro, già da qualche anno, già da qualche anno ha radicato la propria presenza sul territorio e è riuscito anche a convincere a volte i giovani a darsi da fare anche come promotori loro stessi di iniziative di sicurezza e di comunicazione sugli altri giovani, sicurezze sulle strade che partono dalla scelta di non drogarsi, di non bere e c'è un supporto adesso anche attraverso un'equipe medica che è quella di suggerire a chi non va a scuola e non ha modo di apprendere in un'altra maniera cosa bisogna fare e cosa soprattutto non fare. Lavoriamo con le scuole, oramai da cinque anni qui a Siracusa, dall'anno scorso lavoriamo anche con l'ASP l'ASP che è al nostro fianco sia in materia di repressione con i cosiddetti servizi per le stagioni del sabato sera ma soprattutto oggi con i medici di famiglia e i medici pediatri che possono essere veramente portatori di un messaggio sano, di un messaggio medico, di un messaggio che tende a salvaguardare vita umana e chi meglio di loro non lo potrà fare all'interno degli ambulatori, nei contatti che hanno quotidiani direi. Il futuro si basa soprattutto su un incremento delle consapevolezze perché chiaramente il rischio legato all'alcol è scarsamente percepito, c'è una normalizzazione da parte della società per quanto riguarda il consumo di alcol cioè si può bere, anzi tra l'altro viene anche proposto e promosso perché gli è stato dato un valore nel corso degli anni ogni anno si spendono 310 milioni di euro per pubblicità di bevande alcoliche che ti dicono che sei figo come dicono i ragazzi, sei performante, hai successo sessuale e sociale solo se bevi insomma promesse che l'alcol non può mantenere assolutamente perché poi se uno vuole raggiungere determinati livelli perché i ragazzi soprattutto bevono per avere la disinibizione che gli facilita le relazioni interpersonali alla volta successiva un bicchiere diventa 2, 2, 4 e si entra nel vortice e si arriva all'alcol di pendenza allora al di là della mortalità immediata che può essere quella legata all'incidentalità stradale che è la prima causa di morte tra i giovani in Italia Sul Limu Agricola il governo ha accolto le proposte del nuovo centrodestra adesso però occorrono nuovi interventi per le zone colpite da quella bufera, la gelata, dello scorso 31 dicembre Un convegno annoto sul tema del Limu Agricola organizzato alla consulta fiscalità rurale attraverso un decreto sono stati illustrati i provvedimenti che il governo ha emanato per venire incontro alle richieste degli agricoltori sostenuti fortemente dal nuovo centrodestra e dall'ex ministro dell'agricoltura, Nunzia De Girolamo in particolare il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati ne amplia la platea che ora passerà al baio e all'approvazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e dovrà recepire le istanze quali ad esempio l'esenzione totale del Limu per quei terreni che sono stati interessati all'abbondante gelata del 31 dicembre che da Francofonte passano per Siracusa fino a Portopalo e che ha distrutto interamente i raccolti sia in campo aperto quanto soprattutto nelle serre delle zone di Pachino e Portopalo il provvedimento prevede che a decorrere dall'anno in corso per il 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria si applica ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati che si trovino nei comuni classificati come totalmente montani come riportato dall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che si trovino nei comuni classificati come parzialmente montani come riportato nell'elenco dei comuni italiani questi criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014 anno per il quale non è comunque dovuta l'IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole, Alimentarie e Forestali ci fermiamo la pubblicità qualche minuto subito dopo ci vediamo qui Entra nel mondo Gemma Cerca il punto vendita più vicino a te Supermercati Zemar Sul reparto abbigliamento sconti fino al 50% Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta Oggi da Scavolini Store Siracusa ti aspettiamo con un'imperdibile offerta Acquista la tua cucina Scavolini noi ti regaliamo un frigorifero Samsung e la paghi in 20 rate a interessi Zex Scavolini Store Siracusa via Scala Greca 381 Allora telecamera riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio Bella vero? E poi è bella anche dentro Ha stile e guarda che cromature Cromata? Ma chi? La ragazza? Ma vai, io parlavo della nuova Yaris Ti sei innamorato di un'auto Ma non è un po' strano? E perché è una telecamera che parla? Non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris Geniale come sempre Trendi come non mai Oggi è tua da 10.250 euro Autosport, concessionaria Toyota Contrada Targia, Siracusa Autosport e anche Opel Bentrovati in seconda parte del nostro telegiornale La cronaca La polizia del commissarato di Ortigia ha denunciato in stato di libertà un 46enne per il reato di lesioni personali e interruzione di pubblico esercizio di pubblico servizio avvenuto il 5 gennaio scorso e danni di un dipendente dell'ufficio delle imposte dirette Parliamo adesso di immigrazione ma attraverso l'occhio della fotografia l'obiettivo della macchina fotografica che racconta in che maniera i migranti passino o trascorrino il loro tempo qui nel centro di accoglienza Una mostra che parte da un'esperienza sviluppata all'interno di un centro di prima accoglienza e che applica quello che la fotografia è ovvero cogliere l'attimo più che mai in questo caso perché i ragazzi in questi centri sono di passaggio non devono permanere per tantissimo tempo la foto in qualche modo blocca e racconta gli attimi delle loro giornate magari ciò che nessuno sa si immagina semplicemente situazioni di disagio estremo persone che arrivano in una terra che non conoscono queste foto raccontano anche altro Esattamente Elisa Boccaccio la fotografa freelance che lavora a Milano e che sarà una delle fotografie ufficiali dell'Expo 2015 quest'estate ha fatto un corso di fotografie all'interno del centro di prima accoglienza di Priolo con l'associazione Papa Francesco e alcuni di questi scatti che vedete appunto sono fatti dai ragazzi che hanno partecipato al corso altri dalla stessa fotografa questa mostra che sarà visibile oggi per tutta l'intera giornata all'Arci qui in Piazza Santa Lucia è all'interno del progetto finanziato con i fondi FEI appunto la Compagnia dei Diritti un progetto di sensibilizzazione e informazione dei servizi già presenti sul territorio per i migranti stanziali e per chi ha ottenuto la protezione umanitaria all'interno di questa giornata e oggi in Piazza Santa Lucia ci sarà un'animazione dalle 10 del mattino fino alle 4 del pomeriggio per appunto i bambini del quartiere in questo popoloso quartiere pieno di persone appunto di migranti che vivono qui da tantissimi anni nello stesso quartiere abbiamo la moschea quindi abbiamo scelto questo quartiere appunto perché è un simbolo a Siracusa della presenza degli immigrati Andiamo a Lentini vi abilità a rischio in Vietta Nea a Lentini ma anche in via Eschilo a Carlentini sono tante le vistose buche che costellano queste due importanti arterie cittadine vi abilità a rischio nella centralissima via Etnea a Lentini a causa delle numerose buche che costellano questa importante arterie cittadina via Etnea tra l'altro è la principale via d'ingresso del paese per coloro che arrivano da Catania e da Ragusa per cui per la precaria situazione in cui versa non rappresenta certamente un buon biglietto da visita per le amministrazioni comunali di Lentini e Carlentini considerato che una corsia stradale quella che va verso Catania appartiene alle comune di Carlentini mentre l'altra corsia è di competenza delle comune di Lentini un bel pasticcio che favorisce alle due amministrazioni il carico delle responsabilità per la manutenzione stradale a piangere le conseguenze però come sempre sono gli automobilisti e soprattutto i giovani scuteristi che a causa delle vistose buche oltre a danneggiare i propri automezzi rischiano anche di finire all'ospedale la situazione è critica anche in via Eschilo e quindi nella zona nord di Carlentini dove le buche aumentano sempre dopo le piogge numerosi quindi i risarcimenti per danni che sono costretti a sborsare continuamente i comuni di Lentini e Carlentini con la macchina ieri con quella pioggia che c'è stata che le strade sono state tutte allagate i buchi non si vedevano purtroppo nella macchina mia ho rotto una gomma che ho danneggiato la macchina e mi è finita bene ma voglio dire che si deve profedere per queste strade tutte rotte sia di Lentini che di Carlentini perché anche le moto con la pioggia che cade non si riesce a vedere questi buchi e le persone possono anche cadere a terra e farsi abbastanza male vediamo adesso il Siracusa che domani incontra l'Acireale una partita che noi seguiremo in diretta su Tris vediamo le novità nessun sostenitore azzurro al seguito per la partita di domani delle città di Siracusa calcio d'inizio alle 17 allo stadio Tupparello di Acireale accesso vietato infatti ai tifosi siracusani malgrado il consenso espresso dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ad autorizzare la trasferta seppure ad alcune condizioni il prefetto di Catania ha comunicato alla questura di Siracusa l'assoluto divieto di far partecipare i siracusani alla gara di domani i trascorsi burascosi tra le due tifoserie hanno suggerito al commissario di pubblica sicurezza di Acireale di sconsigliare la partecipazione dei tifosi del Siracusa per evitare problemi di ordine pubblico per quanto riguarda la squadra stamani c'è stato l'ultimo allenamento di rifinitura dopo la seduta notturna di ieri per adeguarsi agli orari e abituarsi alla luce artificiale ad eccezione di Montella il tecnico Anastasi può disporre di tutta la rosa a sua disposizione nella Cireale i due ex di turno sono i siracusani Frittitta e Messina l'incontro sarà arbitrato da Simone Biffi di Treviglio provincia di Bergamo gli assistenti saranno Antonino Di Paola e Daniele Picciolo entrambi di Catania la telecronaca della partita Cireale città di Siracusa sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente a partire dalle ore 17 bene è tutto qui il Tei Giornale si conclude vi auguriamo un buon proseguimento di programmi l'appuntamento l'appuntamento intanto è quello con punte a capo dopo il Tei Giornale andrà in onda la rubrica sarà ospite Bruno Marziano che parlerà di un disegno di legge e sulle attività produttive Grazie a tutti Grazie a tutti